Il consigliere comunale di Pesaro Emanuele Gambini presenta Manu 5.0, il suo nuovo libro fotografico che racconta attraverso una serie di immagini di cui è protagonista la sua storia di atleta e di uomo rinato dopo l'incidente del 2013. 5.0 per rimarcare l'età del super campione sportivo, protagonista di tantissime imprese nel mondo dello sport, tutte coronate dal successo atletica triathlon nuoto. Tutto ciò con lo sguardo rivolto alla solidarietà poiché il ricavato andrà devoluto alla fondazione Noi Domani, realtà pesarese che si occupa di persone con diverse disabilità e che assiste ogni giorno oltre 2000 famiglie e persone disabili del territorio. E' nato un anno e mezzo fa per celebrare i miei risultati sportivi, poi durante questo anno e mezzo di Covid purtroppo la mia decisione è stata quella di non pubblicare il libro con una casa editrice ma di poter fare qualcosa per chi ha bisogno, di avere questo libro avrà uno scopo di solidarietà, comunque uno scopo per aiutare qualcuno, quindi ho deciso di mettere il libro a 10 euro, di devolvere tutto alla fondazione Noi Domani. Nel libro c'è tutta la parte che riguarda gli allenamenti, la parte che porta poi alla gara. Un piccolo gesto che può fare la differenza per tante persone che dimostrano quotidianamente la loro forza, come ha sottolineato la stessa presidente della fondazione Noi Domani, Emanuela Angelini. Con il suo libro, il cui ricavato appunto devolverà la fondazione, potremmo portare avanti quelli che sono i nostri progetti, i progetti di fondazione Noi Domani. Fondazione Noi Domani è una fondazione giovane, pesarese. Questi progetti di autonomia per il dopo di noi, cioè quando noi, perché io sono una mamma, noi come famiglie non ci saremo più. Questi progetti di autonomia sono costosi, abbiamo grandi idee, grandi obiettivi, quindi la solidarietà di tutti ci serve e ringraziamo chiunque, come Emanuele con il suo libro, ci possa aiutare.